Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino, provenendo da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza, con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!